Quest'anno attraverso la poesia racconteremo i borghi della nostra bellissima regione, quindi una nuova linfa al Festival Marche Storie che quest'anno appunto sarà declinato sulla poesia in quanto sappiamo perfettamente che i poeti marchigiani, molti dei poeti marchigiani, hanno preso ispirazione proprio per i loro versi dai nostri borghi, raccontandone l'anima, raccontandone proprio forse gli aspetti più intimi e quindi quest'anno attraverso il Festival Marche Storie, le Marche, il dono dell'infinito, richiamandoci tra l'altro al Grande Leopardi, abbiamo voluto dare appunto un nuovo impulso alla quarta edizione di Marche Storie.